Buongiorno a tutti, proseguiamo il nostro viaggio nella web tv del Consorzio del Soave. Stiamo per incontrare una delle aziende leader sulla strada del vino Arcole Doc, l'azienda Terre dei Colli, diretta dal dottor produttore Giuseppe Polacco. Che cosa presentiamo, Giuseppe, a questo Vin Italy 2011? Abbiamo dei vini che sono di grande pregio, ma non forse per merito nostro, ma soprattutto per la terra, come dicevo, molto vocata. Non mi addentro su notizie didattiche, perché qui siamo in presenza di un terreno, quelli che parlano bene dico terroir, che è un risultato di un praticismo, cioè si è alzato 50 milioni di anni fa, tutta una cordilliera che parte dai destini, va ai Berici e poi ai Ryugani. Quindi ha tirato su, diciamo, da profondità inaudite, degli metalli molto importanti. Questi metalli poi li troviamo anche nei vini. Che vini presentate quest'anno a Vin Italy? Noi presentiamo il Prosecco, che è un prodotto che ha veramente dei sapori e i minerali che ci sono lì hanno dato un tono diverso. Poi abbiamo un po' scelto un vitigno non inusuale, ma non lo piantano più perché ha poca resa, che è il Balbi. Quindi abbiamo avuto dei risultati eccezionali, grandi profumi, grandi sapori. e vicino abbiamo anche dei vini che sono dei Sardonnay, sono dei rossi messi insieme con Cabernet e Merlot, molto molto saporiti che questo. No, non voglio fare commerciale, sia ben chiaro. Allora lasciamo parlare la qualità dei suoi vini. Noi invitiamo tutti quanti ad assaggiare i vini dell'azienda Terre dei Colli assieme a Giuseppe Polacco. Proseguite con noi il viaggio.